Abbiamo fatto Lino Banfi, patrimonio dell'UNESCO, ad un ospite speciale con cui vorrei iniziare questa giornata, questa mattinata insieme sul reddito di cittadinanza, che è il maestro Lino Banfi, che vorrei invitare qui un attimo, perché dovete sapere che oggi approfittiamo anche per dare una notizia all'Italia che a me riempie d'orgoglio come Ministro dello sviluppo economico, cioè che come Governo abbiamo nominato, individuato il maestro Lino Banfi e andrà a rappresentare l'Italia nella Commissione Italiana per l'UNESCO, cioè abbiamo fatto Lino Banfi, patrimonio dell'UNESCO. E io dico che centro io con la cultura? Poi ho scoperto, questa carica è bellissima, perché di solito in questi casi l'UNESCO, credo che le commissioni fino adesso si siano fatte con persone che sono plurilaureate in questo e in quell'altro, conoscono bene la geografia, i posti, i siti. Io voglio portare solo un sorriso dovunque, in qualunque modo, anche nei posti più seri. La cosa bella di questo signore, che io mi ricorderò sempre, è che mi disse, non me ne frega niente per chi voti, Banfi, io ti devo questo tributo perché sei Lino Banfi, io ti adoro e fai ridere tre generazioni. Questo mi è rimasto impresso. Grazie. Grazie a te Lino. Quindi grazie di questa nomina. Un bacio. Grazie. Grazie a te Lino.